è luccicante, guarda com'è luccicante luccical, il mare luccical vedi, se io schiaccio qua divento... no, si vede meglio è luccical, è così guarda, c'è scritto qualcosa ah no, era una bollicina luccica, l'uigina l'uigina posso tenerlo io? l'uigina così, ogni volta che guardo il mio portachiavi ma sta tosse si può parlare l'uigina 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 dov'è il portachiavi? il portachiavi l'ho perso dove l'hai messo? l'ho perso, invece guarda quanti cuoricini qui c'è tutti i cuoricini cuoricini, cuoricini, cuoricini quanti cuoricini? 3, 6, 7, 8, 9, 10 11 cuoricini 11 cuori ma come sei stata veloce ma che brava 3, 6, 11 è un conto non facile mannaggia guarda cosa mi hanno regalato una bella casetta ma guarda ma che bella casetta da attaccare al frigo ma che bella grazie 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 una bella casetta hai visto che bella casetta cosa c'è scritto? crodo 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 grazie 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 la metoda il mio frigo si può attaccare le robe grazie grazie ma guarda sta macchia qui non andrà mai via più è una macchia è una macchia che non va via non va via più non va via più c'è un flusso di pensieri si passa dagli argomenti la casetta la macchia guarda il cane è una macchina di argomenti un angioletto rosso un angioletto rosso a me mandano tutte ste belle cosine e io li attacco li guardo tutti i giorni e vi ringrazio veramente vi ringrazio siete veramente gentili guarda che bella angioletto è attaccato al frigo zaccate si attacca al frigo questo qui anche ci sembra da mangiare questo invece è da mangiare questo è il frigo questo è il frigo questo è il frigo ma questo qui c'è da mangiare questo è il frigo questo è il frigo il frigo che ci è attaccato tutto ma guarda quante cose guarda 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 l'asinello di Sardegna il raviolone il ravione tutto ci è attaccato tutto mi ami mi ami questo che viene da lontano da lontano mi ami chi è andato a miami chi è andato a miami? la luigina? la luigina è andata a miami? no no la luigina l'ha ricevuto da miami l'ha ricevuto ma non farò vedere fuori